Buongiorno da parte mia e da tutta la redazione di Teleprima e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro TG Flash che apriamo con il primo provvedimento del 2021 dell'esecutivo perché il governo prepara quello che sarà il nuovo DPCM con ulteriori limitazioni, in particolar modo una stretta sulla movida arrivata dopo gli ultimi episodi di assembramenti e feste illegali vietando altresì l'asporto dai bar a partire dalle 18 e estendendo il divieto di spostamento tra regioni anche nelle zone gialle così come è già avvenuto comunque dalle feste di Natale fino ad oggi sul tavolo c'è anche la possibilità di istituire una zona bianca seppur particolarmente difficile da raggiungere visto che servirebbe un RT al di sotto, bello 0,5 in questo caso si potrebbe riaprire tutto senza alcuna limitazione. Sono queste alcune ipotesi trapelate da una riunione che ha avuto il Premier Giuseppe Conte con i capi delegazione che sono state poi presentate alle regioni a margine dell'incontro voluto dal Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia nel nuovo DPCM non dovrebbe cambiare quella che è la norma che prevede la possibilità una sola volta al giorno e per un massimo di due persone oltre ai minori di 14 anni di andare a trovare amici o parenti inoltre oltre alla scuola entrerà molto probabilmente anche la proroga della chiusura degli impianti scistici la cui riapertura è stata fissata per il 18 di gennaio ma potrebbe slittare. L'unica cosa certa è che il nuovo provvedimento continuerà a prevedere quello che è il sistema delle fasce colorate e il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Smentita invece la possibilità di istituire dei weekend arancioni le giornate di sabato e domenica avranno dunque le stesse limitazioni delle regioni di appartenenza restano ancora chiusi comunque palestre e piscine al pari di teatri, musei e cinema. Ora il bollettino da coronavirus sono 12.532 nuovi positivi al tampone molecolare nelle ultime 24 ore su tutto il territorio nazionale. I tamponi effettuati sono stati 91.656 per un tasso di positività che sale al 13,6% di 0,3 punti percentuali in aumento rispetto alla giornata precedente. I decessi sono stati 448 anche qui in aumento rispetto al giorno precedente che ne aveva fatti registrare 361 nel prospetto. Si segnalano anche 16.035 guariti che portano ad un decremento di quasi 4.000 unità degli attualmente positivi su base nazionale. Attualmente sono 575.979 i positivi al covid sul territorio nazionale. Invece sono 1.021 i nuovi positivi in regione campane, secondo quanto diramato dall'unità di crisi. I tamponi processati sono stati 9.690 per una percentuale di incidenza al test del 10,53%, in netto aumento rispetto alla giornata precedente quando ha toccato l'8,1%, un incremento di ben due punti e mezzo che potrebbe indurre più di qualche preoccupazione. I guariti sono stati 1.655 con 37 deceduti di cui 12 nelle ultime 48 ore e 25 nelle giornate precedenti ma contabilizzati soltanto nella giornata di ieri. Per quanto riguarda invece il report di posti letto su base regionale, su 656 posti di terapia intensiva ne sono occupati 109, mentre invece su 3.160 posti a disposizione, tra posti letto privati e pubblici, ne sono occupati 1.400. E' giunto in Italia il primo carico di vaccini della Casa Farmacetica Moderna. Poco dopo le due del mattino è arrivato al Brennero e lo furgone partito dal Belgio con destinazione Roma fino al Valico. Il mezzo è stato accompagnato da guardie giurate, la scorta è poi passata al settimo reggimento carabinieri di Laives. Il viaggio prosegue in attesa naturalmente di arrivare a Roma, un po' come è avvenuto con il primo carico dei vaccini Pfizer dello scorso 25 di dicembre. Lo stock sarà poi portato all'Istituto Superiore di Sanità a Roma per essere distribuito in 4-5 regioni che sono state individuate dal commissario straordinario Domenico Arcuri come le più virtuose. In questo momento il vaccino Moderna dovrebbe proteggere dal Covid per almeno un anno. Questo l'ha detto un alto funzionario della stessa società secondo quanto riportato dalla CNN. La nostra aspettativa è questa e che duri un anno, ha detto Tal Zaks, direttore medico di Moderna, alla 39esima conferenza annuale di JP Morgan sulla sanità. La società ha proseguito e dovrà verificare se è possibile estendere la protezione aggiungendo una terza dose. In Campania invece i vaccini sono terminati ma è già pronta la spedizione per la nuova fornitura di vaccini Pfizer con un totale di 34.000 dosi che arriveranno in regione entro la giornata di domani. Una volta arrivate a Capodichino l'unità di crisi farà partire le varie spedizioni nei hub di vaccinazione per poter proseguire la vaccinazione al momento. Infatti la campagna è ferma perché sono state somministrate 68.138 dosi di vaccino, il 101,7% delle 67.020 ricevute, una percentuale che è stata ottenuta grazie alla suddivisione in più dosi operata comunque dai vaccinatori, indicazioni comunque che sono state date dall'AIFA. La ripresa delle vaccinazioni è fissata per mercoledì alla mostra ad oltremare a Fuorigrotta. Ora un fatto di cronaca giallo nel napoletano sulla morte di un uomo di 60 anni colpito al petto da un'arma a dataglio, molto probabilmente un coltello da cucina. L'uomo Luciano Caronte è stato trovato in condizioni molto gravi dagli uomini del 112 all'interno dell'abitazione di Via Ghete nelle immediate vicinanze di Via Roma nel centro storico di Bagnoli. I carabinieri sono stati allertati da una telefonata anonima e hanno trovato l'uomo riverso sul pavimento all'interno dell'abitazione deceduto durante le operazioni di rianimazione da parte del personale sanitario. Sono subito partite le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli. Sul posto era presente anche il magistrato di turno della procura di Napoli per disporre la rimozione della salma. Al momento sono due le ipotesi al vaglio degli inquirenti. Un suicidio oppure un omicidio per il quale il principale indiziato è il figlio trentenne della compagna della vittima. Il giovane, secondo quanto si apprende da fonti investigative, sarebbe affetto da problemi di natura psichica. La vittima viveva nell'appartamento di Via Ghete con la compagna, che era un'insegnante vedova, con i due figli della donna. Le indagini hanno portato sulle tracce il giovane, che in queste ore dovrebbe essere ascoltato dai carabinieri. Si cercano inoltre anche dei testimoni oculari che possano aiutare gli agenti nella ricostruzione di tutti i tasselli del mosaico. A Caserta sono 106 i nuovi positivi al Covid, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'ASL locale. I tamponi effettuati sono stati 965 per un tasso di positività del 10,98%, in leggero aumento rispetto agli ultimi giorni. Nel bollettino si certificano anche 172 guariti e 7 deceduti, che portano il totale in terra di lavoro da inizio pandemia a 514 persone. Scomparse i comuni con il maggior numero di attualmente positivi. Restano Caserta e Maddaloni con 212 casi a testa. Poi c'è Marcianise con 184 e Mondragone con 175. L'ASL di Caserta intanto ha anche dedicato un piccolo spazio al proprio sito web relativo al conteggio di coloro che hanno ricevuto il vaccino Covid. Secondo l'ultimo aggiornamento con riferimento a ieri sono state vaccinate 11.421 persone. Chiudiamo con il calcio. Il Napoli, dopo la vittoria di Udine, prepara la partita di Coppa Italia contro l'Empoli che si giocherà mercoledì pomeriggio alle 17.45. I partenopei ancora orfani di Osimen trovato positivo ancora al coronavirus e con i problemi legati alla zona superiore del corpo faranno un leggero turnover in attacco. Chance per Llorente con Insigne e Politano confermato Zielischi. In mediana ci sarà Demme in difesa. Nuova chance per Rachmani per quanto riguarda le probabili formazioni. Il Napoli giocherà con il consueto 4-2-3-1 Spina tra i pali. Di Lorenzo, Rachmani, Maximovic e Isai in difesa. Demme, Bakayoko in mediana. Politano, Zielischi e Insigne alle spalle di Llorente per i toscani. Un 4-3-1-2 con Brignoli tra i pali. Fiammozzi, Romagnoli, Casale e Parisi difesa. Centrocampo Ricci, Stulaz e Haas e poi Bairami opererà alle spalle di Olivieri e Mancuso. Uno sguardo veloce anche al mercato. Intensificati i contatti con il Torino per Meite che potrebbe arrivare con uno scambio con Lobotka ai margini del progetto. Al pari di Malqui che è pronto a firmare con il Parma in entrata. È stata sondata la pista Chirantirne. Il terzino ex Celtic comunque, fanno sapere da Londra, non è in vendita. Un'alternativa è Emerson Palmieri ma la pista in prestito secco al momento non è praticabile. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro TG Flash. L'appuntamento con l'informazione di Teleprima si sposta ora alle 13.30 con il PrimaTG da parte mia. Grazie per averci seguito e a tutti voi. Arrivederci. Grazie a tutti.